La fauna selvatica che rovina i raccolti, ossia cinghiali e cervi, o che aggredisce e uccide gli animali di allevamento e gli asini, cioè i lupi, e poi la gestione di apertura e chiusura dei pascoli, soprattutto in Alto Molise, i fondi del PSR che non arrivano. Il mondo degli allevatori e degli agricoltori hanno chiesto un incontro all'assessore all'agricoltura Micone per ricordare i problemi con cui stanno combattendo da anni. Non solo è frustrante vedere tutto ciò che hai prodotto andare in fumo con tanti sacrifici, ma anche il tuo reddito sfumare senza che arrivino in tempo i risarcementi, dice il comitato, che alla domanda se sia possibile quantificare i danni risponde così. Sono inquantificabili, i terreni rovinati, veramente una cosa inaccettabile, oggi siamo arrivati a una situazione di esasperazione. Il lupo è stato dappertutto, io l'allevamento siccome sono un'azienda transumante, Pozzilli, Pozzilli a pochi metri dalle case praticamente ho avuto predazioni da lupi. Altre persone, altri allevamenti che hanno avuto danni pure da poco nel comune di Pozzilli, ci sono stati degli avvistamenti anche di giorno hanno visto passare qualche lupo e abbiamo anche oltre a questo abbiamo problemi con gli allevamenti ricadenti nella zona parco perché il parco ci sta mettendo alle strette, dobbiamo ridurre i nostri allevamenti, stanno facendo una vera e propria guerra agli allevatori. I problemi degli allevatori e agricoltori molisani sono purtroppo quelli che si stanno riscontrando anche a livello nazionale, precisa l'assessore Micone che però aggiunge comunque vanno trovate risposte. Noi creiamo insomma nei prossimi giorni una serie di azioni, di misure che andranno proprio nella direzione dell'inizio del nuovo programma di sviluppo rurale che permetterà insomma di dare una mano su una serie di misure che vanno da quelle a superficie, una serie di rinnovamento della generazione attiva di queste attività, sull'aumento della produttività e soprattutto nel combattere il fenomeno delle nostre aree interne che è quello dello spopolamento. C'è un'altra cosa che agli allevatori e agli agricoltori preme denunciare, ossia la loro frustrazione a sentirsi considerati come inquinatori, responsabili dell'effetto serra e altri problemi ambientali. Non è giusto, dicono, venire colpevolizzati dai cosiddetti green. In Olanda hanno fatto un partito degli agricoltori che è arrivato al 19%, questo che cosa fa capire? Fa capire che questa Europa che vuole rispettare l'ambiente, siamo tutti d'accordo, però non possono criminalizzarci. consentitemi di dire, con le scorreggie delle mucche non si cambia il clima. Noi produciamo alimenti, produciamo benessere per il territorio, per gli animali e non è possibile che veniamo criminalizzati in questo modo.